Tutto pronto per il Cannonao Likeness International, presentato durante lo scorso Vinitalia Verona alla presenza delle istituzioni della regione e delle nostre telecamere. La manifestazione nasce da un'idea di Vino Way Italia, in collaborazione con il comune di Oliena, Fondazione Sardegna e Asso Enologi Sardegna, all'obiettivo della valorizzazione del vitigno principe dell'isola, il Cannonao. Con una caratura nazionale ed internazionale verranno comparati vitigni simili prodotti in Italia e sarà anche l'occasione per confrontarsi con il Grenache francese e il Garnaca spagnolo. Le commissioni di degustazione, presiedute da Angelo Concas, Pasquale Porcelli, sotto la direzione di Davide Gangi e Mariano Murru, insieme con i migliori addetti ai lavori del mondo vitivinicolo, valuteranno i migliori vini di qualità che rientreranno nelle prestigiose masterclass che si terranno nell'incantevole località dell'hotel Sugologone. Dal 20 al 22 maggio la cittadina della Barbagia diventerà il fulcro dell'enoturismo sardo, dando un notevole risalto alla Sardegna. Lei in qualità di presidente Asso Enologi Sardegna, per lei e i suoi colleghi il vitigno principe, il Cannonao di Sardegna, cosa rappresenta? Rappresenta sicuramente, come hai detto tu, il vitigno principe, è un vitigno simbolo, rappresenta il vino simbolo della Sardegna, che rappresenta tutti noi sardi e forse rappresentano i sardi anche come carattere, perché è un vino che sa essere potente, austero a volte, ma anche generoso, gradevole, piacevole, ospitale, come lo sono i sardi. È un vino che ti colpisce per la sua ricchezza olfattiva, che riporta tanti dei profumi che sono dovuti alla macchia mediterranea che contraddistingue la nostra isola. Sono quei profumi di mirto, di lentischio, della macchia mediterranea in generale, che sono parte integrante del nostro ambiente, della nostra storia, del nostro carattere, che fortunatamente, grazie anche a questo vino, riusciamo a racchiudere in una bottiglia e quindi a portare in giro per il mondo.